Un viaggio delicato in un momento cruciale tra gli Stati Uniti e il Messico. La visita del segretario di Stato americano Rex Tillerson ha fatto emergere contraddizioni ma anche un timido segnale di dialogo diplomatico. Certo, città del Messico ha ribadito che non accetterà le misure unilaterali adottate da Washington, in riferimento all'espulsione di immigrati legali dagli Stati Uniti, a prescindere dalla loro nazionalità. Come potete notare c'è forte preoccupazione, ha dichiarato il ministro degli esteri messicano Luis Avidegaray e c'è anche molta irritazione tra i messicani sulle politiche degli Stati Uniti, che potrebbero essere dannose per gli interessi nazionali e quindi per i messicani stessi. Per il capo della diplomazia americana è normale avere posizioni differenti. Sappiamo che in un rapporto tra due paesi sovrani e forti ci saranno sempre differenze. Noi però ascoltiamo da vicino e con molta attenzione tutti quanti, ha aggiunto Tillerson, sottolineando che l'incontro con Villegaray è stato molto produttivo. Se per il governo messicano sono stati fatti passi importanti sulla questione delle migrazioni, nel paese però la politica di Trump continua a sollevare critiche a non piacere ai messicani che per accogliere la visita di Tillerson sono scesi in piazza Ciudad e in altre città.